Ciao ragazze e benvenute al solito appuntamento settimanale del Top of the Week sempre in collaborazione con Federica, Dari Bruno qui su Youtube e Daniela Zottolina vi lascio giù nell'info box i link al canale di Fede e Daniela sono delle ragazze davvero fantastiche e io le considero amiche perché ci sentiamo tutti i giorni e si è staurato davvero un bellissimo rapporto vi mando un bacione ragazze e niente per chi si è sintonizzato sul mio canale così per caso e non sa di cosa tratta il Top of the Week o il topo della settimana come lo volete chiamare questo qui è il sesto praticamente bisogna indicare i 5 prodotti top della settimana l'ombretto più utilizzato, il rossetto, il profumo l'acquisto della settimana se c'è e il film e la canzone preferita della settimana inizio col farvi vedere i 5 prodotti top della settimana come sapete faccio anch'io il progetto smaltimento prodotti cioè mi metto lì i prodotti che voglio terminare quindi sto lì diciamo tutta la settimana gli usati della settimana praticamente faccio sto lì ad utilizzarlo perché lo voglio finire perché non mi piace eppure sto là là per terminarlo e quindi insomma stringo lo utilizzo e lo finisco in questo caso è un prodotto che fa schifo cioè è un cesso di prodotto e quindi l'avevo accantonato nella cassettiera perché è inutilizzabile l'ho utilizzata anche questa volta per tutta la settimana perché voglio terminarla perché comunque mi dispiace io all'epoca la pagai quando uscì 10 euro per successo e quindi voglio terminarla e quindi in questa settimana ho utilizzato due prodotti differenti allora vi faccio vedere il primo questo qui è della Glossip questa marca mi inviò dei prodotti di tempo fa e in particolare mi ha inviato il fondotinta wet and dry nella colorazione 04 walnut praticamente questo è un fondo compatto in polvere come potete vedere solo che io non l'ho mai utilizzato come fondo perché praticamente avendo la pelle secca mi si evidenziavano tutte le pellicine ed è un effetto davvero bruttissimo ma l'ho utilizzato come cipria perché davvero fa un bellissimo effetto molto molto coprente e opacizzante come potete vedere si sta facendo anche il buco e sono soddisfatta di questo e l'ho utilizzata proprio per la BB cream di Garnier perché non copre una pazza e rende il viso molto molto lucido sembra quasi che avete insomma l'olio in faccia in qualcosa di pessimo davvero e quindi ho utilizzato lui mi opacizza il tutto e mi uniforma anche l'incarnato perché tutto fa quella BB cream tranne che uniformare l'incarnato anzi mi fa tipo un effetto grigiastro è qualcosa di orrendo davvero sconsigliatissima e niente ho utilizzato lui e mi ci sono trovata bene lo stesso vale per un altro prodotto che ho utilizzato tanto sempre in questa settimana ed è la cipria di Glossip sempre ed è la 04 Golden Sunset Golden Sunset penso che si legge ed è questa qui questa c'ha proprio un bel buco al centro ed è quella che ho anche su oggi e niente mi ci trovo bene perché la polvere di questa cipra è davvero impercettibile molto molto sottile mi piace perché si uniforma perfettamente con l'incarnato e non fa l'effetto stucco sul viso che è qualcosa che io odio e niente mi ci sto trovando bene l'ho ripescata perché come potete vedere c'era già un buchino al centro e piano piano cercherò di finirla per insomma dare spazio ad altre cipre perché ne ho davvero tante e quindi sto utilizzando questi prodotti anche per per terminarli in combo sempre con la BB cream che spero mi abbandoni presto e ok passiamo il cesso ok a posto sempre come diciamo usati della settimana ho inserito anche questo mascara che è quello che ho su adesso però ci ho messo su altri mascara infatti io vi volevo chiedere dato che io faccio tutti questi mastrocchi di mascara mi inguacchio le ciglia con 50.000 mascara se poi c'è arrivata una certa io perdo le ciglia perché me ne rendo conto che quando mi vado a struccare le ciglia o due o tre cigliette insomma se ne vengono tipo forse stroncate da troppo prodotto che vado a mettere su se sapete insomma qualcosa perché io faccio molte molte combinazioni di mascara e mi faccio sempre un sacco di strati di mascara e tengo paura che arriva una certa che non tengo anche più un pelo ed è preoccupante come cosa quindi se qualcuno sa qualcosa raga scrivete e fatemi sapere insomma la post cioè quello che pensate se sapete perché un po' mi impressiono ogni volta che mi vado a struccare perdo ste ciglia insomma e comunque sto utilizzando lui il lashes go wild carino niente di che però diciamo non volumizza molto bene la cosa che ho notato che fa questo mascara è che li allunga perché all'interno secondo me contiene delle cibre qui dice for extra volume io vi dico di no li allunga molto devo dire la verità io infatti lo abbino sempre a un mascara insomma volumizzante per allungare utilizzo questo e poi prendo un mascara volumizzante e ci vado a passare su per fare l'effetto cigliozza tipo oggi però non so se si può notare perché vi ripeto non sono molto brava a mostrarvi i mascara in video e niente sto utilizzando lui l'unica cosa che ho notato è che c'è bisogna utilizzarlo perché se no il prodotto si fa molto molto secco a differenza di altre mascara di essence che non mi hanno dato alcun problema si inizia a seccare e fate molta fatica a stendere bene il prodotto quindi va utilizzato non va accantonato lì e l'ho presa ad utilizzare questo qui è 7 ml di prodotto per una scadenza di 6 mesi molte l'hanno paragonato all'oreal manga io l'ho visto all'opera quel mascara perché ce l'ha una mia amica però tutta sta grande cosa sta grande che tutte l'hanno esaltato mamma mia mamma mia io quell'effetto ce l'ho abbinando due mascara per dirvi il leish mania di essence e il new york color big bold l'effetto che vi dà il manga lo avete con dei mascara che costano 2-3 euro quindi niente di eclatante vi prendete anche due mascara quindi voglio dire a differenza dell'oreal manga che sta tipo 10 euro era buona l'offerta di acqua e sapone che costava tipo 7 euro adesso li ho visti a parecchio 12-13 euro vi comprate due mascara di quelli avete lo stesso effetto manga del dell'oreal quindi vi consiglio quei due mascara lì vabbè ho quest'altro qui io mi perdo sempre in chiacchiere poi come terra ho utilizzato questa della fisian formula anche perché noto che questi prodotti tendono a seccarsi e quindi non voglio che mi si seccano che ci tengo particolarmente me li ha inviati mia cugina un anno fa due anni fa dal dal Canada su mia richiesta ho pagato anche la dogane quindi non voglio che mi si seccano dentro ci hanno questo pennellino fantastico e l'ho utilizzato insomma molto come te molto molto carino il packaging è favoloso con il cuoricino tiene il pulsantino e la trama della terra è spettacolare anche i blush sono fatti così è un prodotto davvero molto molto buono e consigliatissimo questo qui è l'Happy Booster Light Bronzer per chi va al Cosmo però può vedere se li trova perché la Physian Formula c'è quindi non non vi scoraggiate c'è modo per trovare questi prodotti insomma poi un altro prodotto che ho utilizzato molto in questa settimana è il Long Lasting di Kiko ed è il 46 quello lì marrone l'ho utilizzato anche per per questo trucco ed è quello lì marrone matt questo qui faceva parte del set dei Long Lasting però penso che lo trovate anche nella linea permanente dei Long Lasting di Kiko è quello lì proprio matt vedete senza nessun sbrillino e sembra quasi nero un bellissimo marrone terra bruciata molto molto bello e super super resistente davvero ve lo straconsiglio infatti mi voglio pulire perché se no mi rimane sulla mano e non va più via ok cioè vedete il tempo di svozzarlo e già non se ne va vedetevi conto poi come rossetto della settimana ho utilizzato molto questa volta ho sgarrato cioè ne ho messi due anzi ho messo tre prodotti però i rossetti devo dire la verità alterno alterno molto quindi non c'è un rossetto che ho utilizzato tantissimo nella settimana però mi sono resa conto che ho utilizzato spesso questi due qui della Catrice che sono di un'edizione limitata alla Rocking Royals però mi sa che non la potete più trovare dovete vedere soltanto su Cosmetics For Less ed è Pink Punk e Love Royal Blood e sono due rossetti matt della Catrice hanno dei colori spettacolari e una durata spettacolare cioè io sono innamorata di questi rossetti vedete questo che bello vedete hanno una hanno questo effetto matt spettacolare bellissimi davvero bellissimi stupendi e le ho utilizzate tantissimo e in più in questa settimana insomma mi sono alternata questi due rossetti quindi sono quelli che ho utilizzato più volte e poi ho utilizzato molto il burro cacao della Yes to Carrots ed è quello lì al melone me l'ha regalato una mia amica l'anno scorso per il mio compleanno e c'è davvero un sacco tanto tanto prodotto è 4.25 grammi di prodotto cioè un'infinità io l'utilizzo tutti i giorni e si può dire sta ancora qui a parte il fatto che si è un po' spappato però vi ripeto non vuole finire davvero e mi ci trovo bene con questo qui perché è l'unico che mi idrata davvero e mi sana anche diciamo le pellicine sulle labbra davvero un ottimo prodotto devo dire la verità e quindi come rossetti ho utilizzato questi due vi ripeto purtroppo sono di un'edizione limitata non fanno molto testo perché insomma non li potete trovare un attimo che prendo la salviettina però sono stupendi vedete come sono belli proprio matt bellissimi e hanno una durata veramente fenomenale poi come ombretti ho utilizzato molto dalla palette di Too Faced la Prattirebel ho utilizzato questi colori diciamo nude il Dainty che sarebbe questo e lo Charming questo marrone matt li ho utilizzati davvero tanto quindi vi faccio vedere per questa settimana questi due ombretti anche qui ho sgarrato c'era da indicare un solo ombretto e ve ne faccio vedere due però davvero li ho utilizzati tanto e devo dire ho utilizzato anche il ringleader questo rosino shimmer bellissimo quindi ho sgarrato comunque ho utilizzato un sacco questi tre ombretti proprio bellissima vabbè questa palette è spettacolare raga cioè stupenda davvero stupenda sia nel packaging che per quanto riguarda i prodotti che ha all'interno davvero super poi come profumo ho utilizzato molto il Narciso Rodriguez for error questo qui è l'eutotoiletto ce l'ho tipo reliquia lo metto di rado anche se devo dire la verità mi è passata la mania del Narciso Rodriguez sono ossessionata da Chloe adesso però è sempre il Narciso cioè ha un profumo spettacolare bello 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 poi il packaging di un'eleganza secondo me spaziale cioè il top proprio come elegante troppo troppo bello peccato che non si vede il prodotto all'interno quanto prodotto c'è cioè non si sente neanche questa è la cosa brutta però è davvero buonissimo penso che tante di voi lo conoscono oppure ce l'hanno perché è davvero due o tre anni fa ho avuto un boom questo profumo in una maniera impressionante almeno dalle mie parti cioè tutti quanti il Narciso il Narciso il Narciso poi è scemato un pochettino devo dire la verità questo qua il 50 ml ce l'ho da quasi un anno e mezzo tipo sempre me l'ha regalato il mio padre e niente ho usato molto il Narciso Rodriguez perché davvero non lo utilizzavo da un sacco poi allora per quanto riguarda la canzone non ci sono canzoni stasettimana non ho ascoltato niente e come film questa settimana mi sono vista la grande bellezza insomma il film che ha vinto l'Oscar mi ha fatto molto piacere e mi dispiace che è stato criticato come film perché le persone parlano quando non capiscono il senso di una cosa cioè ho letto robe su Facebook assurde di persone secondo me decelebrate perché se voi non capite un film non potete dire è un cesso fa schifo o o o che o cioè non ho letto di ogni cioè non è un film da tutti è un film comunque molto molto profondo che tratta diciamo la società di oggi la mia interpretazione è stata quella tratta la società di oggi basata sullo sfarzo sul lusso sulle frivolezze e fa capire che la vera bellezza la grande bellezza è la cultura l'arte fa anche riferimento alla chiesa fa le differenze tra gli uomini di chiesa veri e propri e quelli che hanno sposato insomma la la vocazione soltanto per potere e per ricchezze davvero a me è piaciuto come film purtroppo molte persone non l'hanno apprezzato perché secondo me non hanno capito una beata minchia del film e hanno detto che era un cesso che era questo che era quello a me è piaciuto vi ripeto e tra questi c'è anche il mio fidanzato mi ha detto che era brutto perché il mio ragazzo non aveva capito un cazzo alla fine del film lui stava lì voglio capire che cosa hai capito dimmi dimmi qua la e comunque gli ho dato la mia andato a vedere pure su internet capito per non darmi soddisfazione alla fine c'era scritto bene o male quello che avevo detto io quindi è un film che secondo me va seguito attentamente non va visto alla cazzo di cane cioè passi ah che sta facendo va bene vado dopo ecco e vado anche fuori fuori fuoco è un film che va seguito dall'inizio alla fine non va seguito insomma se vi perdete è il classico film che se vi perdete uno sputo non capite più un cazzo quindi dovete stare lì a concentrarvi e a godervi il film che devo dire la verità a me è piaciuto molto mamma la Serena Grandi in quel film che fine di merda ha fatto quella femmina guarda è una stupenda stupenda ha fatto la fine delle botte a muro come si suol dire qui detto questo la canzone non c'è perché non ho sentito niente ve l'ho già detto detto questo vi mando un forte bacio scusate se vi ho fatto una testa tanta di chiacchiere su sto fatto del film eccetera eccetera però ci tenevo a dire la mia perché davvero mi è dispiaciuto cioè invece di di essere diciamo onorati che il nostro film è piaciuto agli americani abbiamo vinto un oscar noi abbiamo vinto a copri patane e pulpetta cioè abbiamo vinto un oscar tutti quanti a criticare come sempre perché faremoci chiaro la maggior parte degli italiani è una massa di ignoranti cioè non è andata a vedere la parte superficiale del film delle feste dei balli di questo e di quello ma non è andata a scavare il succo del film il succo del film diciamo che cosa vuole insegnare il film in tutto questo va bene avete capito il concetto detto questo vi mando un forte bacio ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ragazze